Comincerà tra pochi giorni l'avventura mondiale di Giacomo Combi in Danimarca a Vegean, con quali obiettivi? Sicuramente portare a casa il miglior piazzamento, gareggerò nel K1 Andre 23 e nel K2 Senior con Jonathan Allen. È la mia prima esperienza internazionale di canoa maratona, quindi cercare di portare a casa sicuramente un buon piazzamento, anche se le medaglie saranno veramente difficili. Come ti stai avvicinando o come ti sei avvicinato a questo appuntamento crudo della stagione? Allora, diciamo che l'obiettivo principale della stagione non era questo inizialmente, perché puntavo a partecipare ai mondiali di canoa velocità ad Auronso, dato che sono anche discipline olimpiche. Purtroppo però non sono riuscito a qualificarmi nella gara di selezione a giugno per pochi secondi e quindi poi negli ultimi due mesi, grazie anche al consiglio del mio allenatore tecnico Daniele Bronzini, ho deciso di provarmi a cimentare nella maratona, dato che comunque sono sempre stato portato per le lunghe distanze e quindi adesso siamo agli sgoccioli perché mercoledì partiremo per i mondiali che si terranno dal 31 agosto al 3 settembre. Cosa cambia tra la velocità e la maratona per te? Allora, la velocità sicuramente è molto più competitiva perché appunto i 1.500 sono le distanze olimpiche, mentre la maratona è una gara che per me va dai 26 ai 30 chilometri, quindi come distanze cambia completamente e quindi anche la preparazione e gli allenamenti che si andranno a fare saranno diversi. Appunto in questi ultimi due mesi il focus è stato più su allenamenti molto più duratori rispetto invece alle ripeture più brevi che si facevano a maggio-giugno. Sei qua sul lago, com'è questo lago per allenarsi? Allora, c'è di meglio nel senso che c'è sempre un po' d'onda anche a causa dei motoscafi però comunque rispetto al Ticino dove c'è parecchia corrente è sicuramente meglio.